Ehi miei a tutti ragazzi io sono Deo Serot e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ragazzi andrò a trollare, se avete capito bene andrò, io andrò a trollare uno di voi all'interno della Osecraft Survival Per cui ragazzi, allora sicuramente ci sarà da divertirsi, questo è poco ma è sicuro Comunque voi mi raccomando lasciate tantissimi mi piace, mi raccomando perché questo può anche diventare una serie Poi tutto dipenderà dal vostro supporto, quindi nulla ragazzi, allora come vedete nell'inventario Ecco guardate abbiamo tutte le uova di mostri, tutte le pozioni di invisibilità Sì perché mica vogliamo che ci veda questo fan, per cui non so nulla, vabbè cominciamo con il video Ok allora eccoci qua, come vedete sono in creativa perché sì appunto Diciamo che questa è una copia del mio mondo originale perché cioè tra poco sarà tutto bombardato Tutta vabbè, per cui allora io direi di invitare subito questo fan che l'ho già contattato su Whatsapp E lui mi ha detto che è al mare, no? Cosa ho fatto? No? Ok Invita a giocare, ok eccolo qua, Jonathan Will56 che tra l'altro è stato l'unico ad entrare in questo mondo Infatti mi ha fatto quella bellissima casa sull'albero E tra l'altro c'è sempre il nostro amichetto che vabbè ormai è sempre qui in questo mondo Sempre in questa zona del mondo Vabbè lasciamolo stare, intanto aspettiamo il nostro fan Io direi di farlo spawnare in un posto tipo in alto Per cui prendiamo tipo, non so, della terra e allunghiamo questo strato Ok facciamo una sorta di ok colonne in questo modo Per cui lui quando spawna diciamo che si dovrà buttare E tra l'altro mettiamo anche in posta punto di generazione così lo spawna qua E nulla, adesso vediamo un po' di aspettare Chissà, ma è già entrato? No, aspettate Ok no, non è entrato Aspettiamo, ok, entri Per cui nulla, aspettiamo Ok raga è passato tantissimo tempo Infatti scusate per il cambio di audio Soltanto che il fan prima non poteva Però speriamo che adesso stia entrando Dai per favore Allora intanto io mi bevo subito una pozione di invisibilità Perché non voglio che mi veda Ok in questo modo Allora tra l'altro voglio vedere se si vedono le bollicine per caso Per cui vado qua sopra E mi metto in terza persona Allora dov'è? Video, impostazioni video, terza persona Vediamo un po' se Beh si vedono un pochettino Per cui cioè diciamo che dovrò stare abbastanza lontano Va bene Ora mi rimetto in prima persona Dopodiché aspettiamo il fan per l'ennesima volta Oddio raga è entrato? Però perché non è esponato da sopra? Allora no Assicuriamoci che siamo invisibili Intanto scrivo qua sopra Ciao Ciao Ok Io sono all'esplorazione Ok Io sono all'esplorazione Ora scrivo Tu costruisci una casa Ok Una casa E quando torno Voglio vederla finita Ok Voglio vederla Finita Ok In questo modo Quando lui starà per costruire Io c'è Piazzerò creeper E tutto quanto Allora Spero che non mi veda di qua Ma tanto sono invisibile Ma ok Non ho l'armatura No Che non ce l'ho Meno male Se no era un fail A tutti gli effetti Allora Nonostante sono invisibile Io ho paura Ora scrivo Trovi i materiali in casa Trovi I materiali Raga Ho paura Perché Cioè Si ho paura che mi veda Perché non voglio sia Un fallimento totale Questo video Ma lui dov'è Oh ecco Lo vedo Vedo la scritta Cosa sta facendo Ok ok Mi sa che sta andando in casa Lui in questo momento Raga Non mi vede Perché sono invisibile Allora raga Io Cioè Giuro che Voglio cercare di non fare nessun fail Perché Cioè Voglio proprio fare una serie Su questo Oddio Allora Lui sta sopra Bah Che dite Ci andiamo Andiamo a controllare Ops Mi sa che ha sentito le porte No Oddio sta scendendo Sta scendendo Cavolo Cavolo Paura Penso che mi abbia sentito No Non mi ha sentito Oddio raga Io ho paura E lui sta girato verso le porte Quindi dice Penso che abbia sentito Io in questo momento Sono con l'audio abbassato Cosa Mi sa che sta scrivendo Aspettiamo Allora Guardiamo Ma hai messo qualche texture Perché io vedo il vetro senza i bordi In che senso il vetro senza i bordi No vabbè Comunque non ho messo nessuna texture Eh vabbè Meno male perché pensavo che Avesse sentito Vabbè io scrivo no Ora scrivo veloce perché Sto tornando Veloce Perché fra poco torno Ok Allora Vediamo un po' cosa sta facendo Lui non mi vede Ho ancora l'invisibilità per due minuti Allora raga Io Cosa devo fare Una casa piccola Una casa piccola Cioè Scrivo piccola Perché non voglio che ci mette tanto impegno Perché poi Eh La devo distruggere E devo cambiare mondo Ovvero andare nel mio mondo originale Mi berrei Senza farmi sentire Un'altra pozione Ok adesso siamo a 8 minuti da capo Perfetto Facciamo silenzio Aspettiamo il nostro fan Casa di che genere A caso Sì Le solite Sì virgola Le solite Ok Allora Calma Dai forza Lui mi sa che sta prendendo della legna Sì perché questa è la cassa della legna Lo so benissimo Eh Vorrei bucare Però No raga Meglio di no Soltanto che ci voglia andare Per cui Faccio così Oh cacchio Ok ok Non mi ha visto Cioè vabbè certo Eh Penso però che mi abbia sentito Vorrei provare a salire Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Ok Madonna raga Io cioè sto sudando sette camicie Veramente Eh Come faccio ad uscire Vabbè rompo i vetri Tanto questo è un mondo a caso Ma non so dove farla Dove vuoi Allora adesso scrivo Dove vuoi Eh Dopo questo Penso che il fan non mi perdonerà Però Cioè capisci È uno scherzo Vero Ma sì da Fa l'acqua Forza E sta anche piovendo Ottimo Ah ok Fra l'altro è anche notte Per cui allora Io direi di cominciare a posizionare I primi Mob Ovvero inizierei con un creeper Due creeper Vai Due creeper qua Ok ragazzi Li sta Adesso li scrivo Mi raccomanda non fare danni Ecco appunto Eh Se ne è accorto Oppure è rimasta FK Ma che sta facendo Ah penso che stia scegliendo i materiali Eh mi sa che è rimasta FK Ecco Allora intanto colgo l'occasione per rimettere il giorno E poi Meteo sereno Dai almeno questo Ancino sapete cosa Allora metto notte in modo che posso spawnare zombie e tutto quanto Però mi prendo di qua una pozione di visione notturna Ok questa da 8 minuti e me la bevo In questo modo Allora così lui Cioè per lui sarà notte Mentre per noi sarà giorno appunto Eh soltanto che adesso è uscito dal mondo Non so perché Eh non so aspettiamo che rientra Ok ragazzi eccolo eccolo lì Dai forza girati Guarda là che bel buco hai fatto E tra l'altro là ho visto prima due creeper Eh però cioè non l'ho messo io Scusa ma quel buco là Ma scusa ma dove sta andando Ah mi sa che sta tornando in casa Forse si è dimenticato qualche cosa Non lo so Vediamo quanto tempo ho Ancora due minuti Eh beh Io direi che mi bevo un'altra pozione Almeno di invisibilità Ok mi faccio su in modo che non mi sente Please dormiamo No Adesso scrivo No non ho un letto Eccolo Ho visto che si è rialzato Anzi no mi sa che sta dormendo da capo Oh ma che cavolo Ah ecco ok ok sta uscendo da capo Dai forza vai Comunque ha scritto Please dormiamo Proprio perché Cioè c'era stato quel creeper Che li ho fatto esplodere da dietro Posso prendere delle torce dalle ceste Ma ovvio che puoi Ovvio Sempre se riesci a trovarle Perché il mio magazzino È fatto un po' così a caso Vabbè Ora ti metto tre creeper Qua fuori Così quando esce Esplodono E mi fai esplodere tutta la Cioè scusami Tanto so già che mi perdonerai Però Cioè È un video troll Questo Vabbè Tanto dopo gli chiederò Scusa Sicuramente Ok ho scritto veloce Che fra poco arrivo E lui sta scendendo Ok Ci sono qua tre creeper Qua fuori Per cui Ok non li ha visti Però lo stanno inseguendo Ottimo Allora Lui sta tornando Alla sua postazione Forza vai Allora intanto qua Vabbè Tanto è anche vero Che questa è una copia Quanti creeper Oddio Eh Hai fatto esplodere un creeper Però Un altro Oddio Allora raga Io immagino già il suo cuore Perché cioè Starà pensando Che poi dopo lo sguiderò Per tutti quei buchi Però no C'è stai tranquillo Anche se tu Cioè Non puoi saperlo Che ti sto facendo un troll Lui sta salendo Nella casa sugli alberi Oddio Mi può vedere Però io li metto Dei creeper qua sotto Ok Non mi ho visto Perché ci sono queste foglie Per fortuna Cosa sta andando a vedere Mi sa che sta andando a vedere Come ho decorato La sua casa sull'albero Non posso costruire Troppi creeper Eh Immagino Ho scritto Dai fa nulla Veloce Dai su Non ho tutto il tempo Del mondo Lui sta scendendo Sì Oddio Bene Tanto invisibilità Per altri 4 minuti Dai Forza Vai Allora facciamo che per adesso Non gli posiziono Nessun creeper Per adesso Oh ecco Lui Scusa Ok Allora facciamo che gli metto Un orso polare Così lui pensa Ma come Scusa ma cosa ci fanno qua gli orsi polari Non vedo niente Allora gli metto un orso polare qua Ok ragazzi la sta tornando Ok ragazzi la sta tornando quando lui vedrà il storso subito inizierà a sospettare di qualcosa Però non lo so aspettiamo vediamo cosa dice Ok sta venendo qua Dai forza prendi tutta la tua roba Vedi cosa è preso Legna e torce Basta scusa ma là c'è un orso che non lo vedi C'è un orso Oddio ma sta illuminando tutto Ma che cavolo sta facendo Allora vediamo cos'altro possiamo mettere Una strega Sì c'è No un fantasma Uno scheletro Enderman Strega Ok no dov'è Eccola quella strega Eccolo che costruisce Io posizionerei una strega Velocemente qua Ok Ok Eccola Eh no E scusa però Cioè combatti quella strega però Dai Forza dai corri Guarda che ti lancia le pozioni anche Oh si è Si è rifugiato Oddio ma sta facendo No Ah ok no Vabbè nulla È la pozione di Come si chiama Quella divisione notturna Che mi è finita Ora gli metto un orso polare Perché quello non l'ha visto prima E glielo metto qua fuori Ok cioè perché quando mai ci sono gli orsi polari Qui in pianura Quindi lui penso che sospetterebbe di qualche cosa Cosa sta facendo Nulla Sta aspettando Ah penso che stia scrivendo un'altra cosa Vero Oh c'è l'altro ci sono tantissimi Creeper Strega E tutto quanto Poi io che sono al mare Non vedo niente Non me ne acc... Ah Eh sì giusto perché lui è al mare Eh però sta facendo giorno Dai forse sei un pochettino fortunato Eh mi sa che ha visto l'orso polare Eh così appunto Eh sì Sta fissando l'orso polare Ma penso che abbia visto le mie bolle No Allora quanto dura ancora per due minuti Sì dai Ok sta fissando i creeper E l'orso polare Non lo so cosa sta facendo In questo momento il suo cervello sta tipo esplodendo Eh lui cosa sta facendo Ok è tornato a costruire senza domandare nulla Oddio Eh combattili ma fai prima Allora comunque io prenderei quest'ascia E gli taglierei questi tronchi in questo modo Oddio Cioè si sta facendo inseguire da dead round Cioè scusami per questo Però penso sia arrivato il momento della verità Perché cioè mi dispiace troppo Per cui prendo questo secchio Me lo bevo E mi ha visto Cioè scusami era un troll Ma muori un pochino Vabbè eh vabbè Nulla ragazzi Questo era questo troll appunto Del mio amico JonathanWil56 Scusami tanto però Vabbè scusami Eccolo guardate com'è triste Vabbè Comunque cercherò di fare questi troll A gente che non guarda i miei video Ma eri in creative Sì ti ho trollato Adesso scrivo Sì ti ho trollato Eh vabbè quindi scusami ancora un'altra volta JonathanWil56 Mi raccomando lasciate tanti Mi piace se volete che questo video Diventi una serie appunto Iscrivetevi al canale Perché siamo vicinissimi ai 3000 iscritti E nulla Qui da Doeroselot E da Jonathan Era tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Miaoo Ciao a tutti Sous-titrage ST' 501